Salve a tutti da Taitano, Taitano e benvenuti a un nuovo video di Final Fantasy XV Ci siamo qui dove ci siamo lasciati l'ultima volta dai Chocobo E in teoria li abbiamo sbloccati Ma peraltro vedo due missioni o no? Missione secondaria Wiz E sconosciuta Più vabbè c'è una cosetta qua che tra poco già che ci andiamo Che dire? Allora innanzitutto qui a questo mercante Avete visto comunque il posto dove siamo A questo mercante ho comprato tutte le armi che aveva E ho fatto ragazzi un power up dei personaggi spaventoso Perché mi sono comprato anche qualche Diciamo che io i personaggi li avevo lasciati con le armi comprate nel secondo video Siamo al video 14 Potete capire quanto sono andato avanti Quindi mi sono fatto un po' di questa robetta Vedete? Se siete interessati mettete pausa al personaggio e vedete cosa mi sono messo Veramente ragazzi ho avuto un power up altissimo L'abilità che ho salito avevo 260 punti abilità Quindi da adesso allo scorso video credo di aver avuto dei seri miglioramenti E qua c'è qualcosa Cosa c'è qua? Ah tipo ristorante questo E qui? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è con il ragazzo che ha un camera fanciato? Un camera fanciato? Ah certo Yeah Buono Vabbè, noi siamo solamente impegnati a salvare il mondo, obiettivi sul ciocobo, fotografate un ciocobo selvatico, ci ha scritto vivare. Ah, va bene, va bene, va bene, va bene, fatemi vedere, andiamo verso... sono indeciso perché voglio prendere il ciocobo. Noleggiamolo, la prima volta. Quando noleggio il ciocobo puoi richiamare in qualsiasi momento, usando il fischetto che mi hanno dato nel precedente video, dal menu degli oggetti, R2 e destra. Quando scade il noleggio, i ciocobo tornano immediatamente alla stazione di Wizz, a meno che non li stiate cavalcando. In questo caso, prima di sfrecciare via, aspetteranno che scendiate a terra. I ciocobo potrebbero rifiutarsi di proseguire se percepiscono un pericolo o se non sono dell'umore giusto. giorni, giorni, sette giorni, 350 guild va bene. Allora, fatemi vedere, R2, destra, chiama il ciocobo? No. Ehi, è questo il mio ciocobo? No. Era ora. Ah, briga sciolta, trofeo guadagnato. Beh, non va più veloce. Ehi. Ah, scusate, salta. Tratto. Ehi, nocte, cosa stavamo parlando? Non c'è molto, solo vuole una foto di un ciocobo. Oh, ragazzo, andiamo là. Tu hai fatto il suo giorno. Un ciocobo wilde. Spero che ci siamo inizialmente. Oh, ok. Vabbè. Speriamo più veloce, ma va bene. Non è che posso pretendere la supervelocità. Dove devo andare, scusatemi? Ah, ok, ho visto adesso. E... Andiamo. Bella. Bella la ciocobo, ma bella. Allora, qui dovrebbe esserci tipo il forziere. Bola. Cioè, il forziere, vabbè, il tesoro. Come si smonta? Smontrix. Dovesti restare qua, no? Sì. Banda di ferro, ottimo. Oh, ormai non scenderò mai più dal mio ciocobo. Oh, lì. Oh, tu chi sei? Ragazzi, oggi forse si continua la storia, eh? Abbiate fede, abbiate fede. Perché siamo diventati fortissimi? Due chilometri in nove, che bella sta zona, però. Cioè, questa in particolare non troppo, però vi assicuro che questa zona è molto più bella della precedente. Che vuoi? Ehi. Oh, va bene. Cioè, volevo farmi sempre il principale, ma se lo dici te? Addirittura? Cioè, hai una passione che non si la cucina? Eh, papapà, vediamo un attimo. Quindi abbiamo fatto una missione, praticamente, senza manco capire come. Eh, qua che cosa c'è? Una vita missione secondaria. Eh, ah, vediamo che missione abbiamo. Queste le faremo man mano. Cioè, non abbiate fretta, le faremo prima o poi. Eh, andrò a prendere... Queste meriterò per un bel po', credo. E inizi del misero le faremo entro 3-4 video al massimo, tutte quante. Quelle che possiamo fare. Eh, occhi esperti? No, per un po' di tempo no. Obiettivi sui Chocobo. With... Potremmo fare questa? Sembra facile. Chocobo, andiamo! Eh, no, perché piove? Non mi piace la pioggia. Voglio solo il sole in questo gioco. Molto più bello. Ah, stavo leggendo un po' di recensioni che cominciano ad essere tante. Molti, cioè molti, alcuni anzi, criticano la trama del gioco. A me, cioè, effettivamente... Cioè, è una cosa che... Letta la noto, effettivamente. Magari mi sono fatto fuorviare. Effettivamente la trama... Cioè, io sto più facendo le missioni secondarie, non sto facendo una trama vera e propria. La trama vera e propria non è quello che mi sta appassionando di questo gioco. Mi sta appassionando la modalità del gioco stesso. Dicevo, mi sta appassionando il gioco stesso, come è fatto, le missioni secondarie, più che la trama principale. Però non mi sento ancora di scartarla, anche se hanno detto che dal capitolo 9, scema un po'. Succedono cose brutte, mentre nel finale è bellissimo, dicono. Ovviamente, viviamo insieme il tuo Chocobo. Chocobo è scritto a livello 2, cambia nome e colore. A volte il tuo Chocobo può decidere così tanto per di giungere in tuo soccorso in battaglia. Non farci troppo affidamento, però sono penuti volubili. Il Chocobo è impatto dall'abilità Chocofuga. Suona il fischietto in battaglia e il tuo Chocobo penuto potrebbe aiutarti a scappare dalla situazione disperata. Una sola volta per battaglia. Ok ragazzi, scusate per il brutto taglio. Stavo cercando un'entrata per questo posto. Praticamente è l'entrata del Bemoth. E si entra da qua. Quindi ho girato un po' a vuoto con il mio Chocobo, già che lo sto sperimentando. Si entra dove ci sono i rami tagliati qua. Ok, non vuole proseguire. Scendi. Ma se io lo chiamo qua viene? Vediamo. No, non avanza, ha paura. Vabbè, andiamo avanti perché il Chocobo è selvatico che stiamo cercando. Forse è quello? Eccolo. Certo vince contro un Chocobo. E se viene per il mio Chocobo. Il mio Chocobo qua non viene. Chissà che nemico ci aspetta ragazzi, perché non può essere così facile. Dai, 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 dai. Dai, Noctis avanza. Dove è andato? Ah, svegli. Eh, no, dobbiamo andare per forza a quella parte. Vai così. Adesso le nostre mosse sono decisamente migliorate. Veramente siamo molto più forti. Aspetta che metto... Cioè, non è troppo facile. Ragazzi, adesso questo gioco sta diventando facile perché ho cambiato tutte le armi. E i potenziamenti. Sono una bestia. Ah, stavolta non c'è il Behemoth. Non mi ammazzare nessuno stavolta. Ah, giusto, dovevo andare avanti, scusatemi. Non c'è il Behemoth, no? Ehi. Fate scherzi. Zitti, zitti, zitti. E vabbè. Vaffa... Ti odio. Ma pronto, stai sempre con la macchinetta in mano. Potresti fare qualcosa, eh? Mettiamo comunque quella super arma, quella che fa un sacco male. Ehi, dove è andato? Non è che mi esci dall'altra parte dopo, eh? Farei scherzi. Vediamo. Eh, perché... Tricama sa un po' come vuole, eh? Indeed. E dove sta? Chocobo! Eccolo, eccolo! Ma... Salva. È uscita un po', diciamo, rossiccia. Non era proprio così, però va bene. Che stupido. Ehm... Per uscire... Cosa conviene fare? Mì, che strada. Vabbè, andiamo da questa parte. Non c'è un modo più semplice per uscire da qua, no? È un po' facile. Però c'è la musichetta... C'è una musichetta... Un piccolo sottofondo inquietante. Come se non... Se non fosse finita qua. Poi magari questa era la tana del behemoth, quindi... Può essere che ci sia qualche riferimento... Cioè... Sia rimasta la musichetta inquietante del behemoth. Anche se quando siamo venuti qua... C'era anche la nebbia. Quindi ancora più inquietante. Ehm... Ah, ho messo la barda del trionfatore... Che è una potenza di arma. È veramente una potenza... Una... Eh... Roba fortissima di arma. Vediamo un po'. Solo che non ho ancora testato... Quanta vita tolga Noctis. Perché... Ehm... Potrei fare qualche giochetto... Per magari... Aumentare la vita a Noctis. Aumentare la vita a Noctis... E giocarmi con quest'arma... Super portentosa. Era da qua l'uscita? Uscita? Uscita? Ragazzi... Senza farvi perdere tempo... Se non succede niente... Ci vediamo direttamente all'accampamento. Quindi a tra poco. Eccoci arrivati qua ragazzi... Vediamo che premio ci danno. E vediamo se il cioccombo tornano... Se il cioccombo tornano... Da dove vengono? Da nulla. Va bene. Salve. Dimmi che abbiamo fatto bene la foto... Perché se no ci tocca rifarla. Ah... Ricercati? Questo l'ho fatta... Oh... L'artiglio di... Sul cioccombo potrei fare. Sì. Anche se... Se devo dire... Io ero venuto più a un'altra cosa... Però... Sì... Va bene. Buona fortuna. Ok. Allora... Missione. Eccola qua. Missione compiuta... Obiettivi su cioccombo... 500 punti di esperienza... Se no non ho letto male. Semi di... Xelpant... Non so. Semi di Doma... Semi di... Mammuc... Allora... Tanti semi. Che altra missioncina ci potresti dare? Penso che il livello salga. Un cioccombo da soccorrere... Trovate il cioccombo indebolito. Che livello è? Missioni... 9. 9. Però... Però... Facciamo così. Andiamo un po' avanti nella storia, ragazzi. Giusto per... Per fare qualcosa di nuovo. Anche perché sono 14 capitoli. Ma poi dobbiamo finirla anche. Questa è la cosa in tre gente che hanno detto, eh? Questa è una cosa intelligente. Ma... Cosa si può portare a un cioccombo ferito? La pozione? Hanno detto tutti quanti la cosa intelligente. Comunque... Tra cola... Lockzone. Io compro tutto. Ah, pozione, tutto quello che posso avere ce l'ho. Ehm... Ma sì... Compriamo... No, scusa. Colpa mia. Via. C'è qualcosa per... Indicato per il nostro bel cioccombo? Oh... De calco mania? No... Ehm... Libro di cucina? Che... Va bene. Bistecca sovrana. Bruschetta con affetto. Con affettato, scusate. Va bene. E... Dove è la macchina? Tu chi sei? Tu cosa sei anzi? Addirittura. Quando vi accampate potete dar da mangiare ai cioccombo e fornire loro effetti benefici temporanei in base al tipo di foraggio scelto. E quanta roba c'è in questo gioco. Foraggio di cui i cioccombo vanno ghiottino aumenta temporaneamente il vigore. Temporaneamente questa è la capacità di salto. Costa talmente poco che voglio comprare tanti. Ma no, però dieci sono tanti, eh. Dieci tanta roba. Ok. Sì, va bene. Voglio dire la seconda cosa che avevi. La scuderia. No, 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 no. Sì, va bene. Allora, nome, colore. Dalle cui i frutti o semi si ottengono nuove colorazioni. Ma è che è la macchina? Ma povero. Ma povero. Vabbè, facciamo così. Gladio... Ah, Noctis non è blu. Noctis è più... Sarebbe sul nero. Gladio è il rosso della passione. Ignis è il coso del sofisticato. E tu il verde speranza. Andata? Andata. Colore coccarde. Ah, la coccardina. Vabbè. Vabbè, basta, basta, basta. Ragazzi, non ci posso perdere due ore per queste cose bellissime, per carità. Sono le 19. Prima di andarci da qui, si dorme. Fatemi vedere un po'. Allora, ragazzi, ci vediamo... Qua. Io adesso dormo, si fanno le sede del mattino, e vado esattamente qua, località Lestallum. Quindi a tra pochissimo. E ragazzi, come avete visto, ci sta chiedendo di fare una foto. Pronto? Sì, facciamo qualche foto. E tra poco vi faccio vedere da dove siamo passati esattamente. Chance fotografica, la faglia fiammante. Ovviamente, usando molto spesso la macchina, ragazzi, succede che Prompto, vi chiede in certe zone specifiche, quelle un po' più significative di tutto il mondo di Final Fantasy XV, di fare una foto. Se si fermano, vi faccio vedere anche dove siamo, eh. Questo ovviamente non me l'aspettavo, credo che me la chiedesse proprio adesso, però... Sì, la faccia dove ho chiesto. Devo dire che questo posto è bello. Bello, bello. Sei tu che ti sei voluto fermare? Andiamo! 50 metri. Oh, che figo qua sopra. Guardate. Cioè, questo è un fantasy, di fantasy... Che cazzo... Cos'è? No, io voglio andare là. No, 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 no. Che padre, è solo che l'ho visto voglio andarci. Ragazzi, spero che voi abbiate visto quella specie di behemoth che stava lì in fondo. Ora, forse non sarà un behemoth, non lo so. Ma qualsiasi cosa sia la voglio fare, cioè voglio andare a spaccarlo. Bella. Finalmente ha fatto una foto che va bene, fammi vedere. Parte Noctis che è un po' titubante. Salviamola. Missione compiuta, chance fotografica, faria fiammante. No, io voglio uccidere quello. Chiamai Ciccobo. Ciccobo? Eh, chiedi se è bello bianco. Cioè, Nero sarebbe più bello che colori sgargianti. Ma almeno vi riconosco. L'avete visto quel tizio, eh? Scusate per la sosta, ragazzi. So che dovevo fare la missione principale, ma l'ho visto. Cioè. L'ho visto ormai. Dov'è? Eccolo. Dai, ragazzi, vediamo che cos'è. Magari l'abbiamo già fatto, non lo so. Ci sembra un bemote, no? Non lo so che cos'è, però... Aspetta qua. Cosa sei? Dimmi che non sei livello alto, ma mi sa che sei un 30. Sì, non mi voglio avvicinare troppo. Beh. Infiggere almeno 42.000 danni come squadra. Cugliata. Cugliata sti cui. Cioè, aspetta. Aspetta. Ma scherziamo? Quanto ho tolto? Non si è visto. Non sto vedendo quanto sto togliendo con quest'arma super figa. Ciò so che questo tizio ha un livello che... Due volte è mio. Ma perché... Ma ragazzi, sono ciecato, ma non sto vedendo quello che faccio. 1391. Ok. Dopo che sono morto l'ho visto. Ragazzi. Resuscitatemi. Ragazzi. Sono in crisi, grazie. Dai, giochiamocela meglio. Giochiamocela meglio. Su. 5416. E io vi saluto. Non è... Cioè, sì, si può fare, eh. Ma se devo stare in crisi per tutto il combattimento... Non è più divertente. Eh, bravo. Resuscitami. Cioè, forse ce la facciamo, non lo so. Ci riprovo. Se rimuoglio... Basta. Uh. Dai, 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 dai. No, ma ci mettiamo troppo. Fermati là. E basta. Ok. Se tipo di ammazzo la zampa... Ce la facciamo. Olè. Ma che sta facendo? Ok. Bella quanto ti ho tolto. Brutta cosa. Aiuto. Ok. Quante pita ti rimane, bello? Esci, vabbè. Esagerato. Esagerato. Beh, noi ce l'andiamo, eh. È stato un piacere. Riconosco quando sto perdendo la grande, ragazzi. Quindi, andiamoci nella svelta. Chocobo! Come faccio a sedire? Intanto andiamoci dalla sua aria di tiro. Ok, ok. Adesso, se si può, vuole ritornare nella regalia, eh. Ragazzi, torniamo alla bacia. Cioè, torniamo di nuovo alla missione. Scusate di questa digressione, ma ci voleva sfidare questa bestia. Tra poco. Eccoci arrivati, ragazzi. Finalmente al nostro punto d'arrivo. Quindi, vediamo un po' questa cittadina nuova. Si, parcheggiati. C'è una pompa di benzina perché stiamo con metà pieno, eh. E pure retromarcia. Ok. Dov'è che... Come si chiamava sta cosa? Le salum. Località turistica, suppongo, perché sembra... Aspetta, c'è male? No. Però c'è la missione. Ma dove la pompa di benzina, qua? Di solito è vicino a dove lasciamo la macchina. No, ho bisogno di benzina, eh. Vabbè. La troveremo dopo, non lo so, eh. Ok, ecco la missione. Guarda quanta gente è così. La missione compie. Trovate Iris nell'hotel Bile. L'hotel Bile. Oh, qua che si compra? No. Deadeye è morto. Disgui farmaci sono cattivano la morta del famoso behemoth che terrorizzano la regione. Il prezato di insatiabile appena hallo 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 e raviare le croci. Ovviamente ragazzi parlavano di noi Vabbè qua ancora parlano No, vado a vedere se si poteva mangiare qualche cosa Però vabbè C'è che devo mangiare anch'io Spazzatura agli angoli Tavolini a destra Una ragazza di dubbia provenienza Ah quanto dista la Quanto è? Ah 60 mesi si può andare a piedi Ciò chiamiamo il ciocobbo eh No non si può chiamare in città Peccato Salve Vabbè Siamo arrivati? Wow Ti senti questo? Ti senti l'esercizio? C'è qualcosa? La mia head ha iniziato a spazzare Ok Credo Che quello fosse uno dei sei dei Non lo so Mi sembrava il titano La sto sparando La sto veramente sparando grossa Entriamo qui Minizione compiuta Un destino da compiere Non lo so Che cosa posso dire? Tu sembrava bene Tutti 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 Tu stai Tu stai Tu stai Tu stai Tu stai Il mio figlio è il mio figlio, che ha ancora apprezzato i suoi mani. Eh, mi piace. Il mio Signore è molto amico, ma non ci siano imprese. Una buona notte a te, Il mio Signore. So, Iris, what was it like inside the Crown City? Not pretty. The Citadel took a beating. But, a lot of outlying neighborhoods made it through in one piece. The Empire had tactical targets in mind. You know, if there's anything else, you can ask me. Yeah, uh, thanks. Uh, what? So, about Lady Lunafreya, I keep hearing she was in town. Apparently she left right away, but at least it means she's okay. Good to hear. Thanks. Yeah, well, get a good night's rest. Vabbè, ci stiamo riposando qua, ma non ci venite a fare, quindi andiamo avanti. Tempo di... Vabbè, esecuzione, giustamente, non c'è niente. Ah, saliamo di qualche livello. 1,5 gratis, grazie. Meglio di niente. 21, 21, 21, 21. Ho visto che prompto è salito di fotografia, ma gli altri niente. Devo salire un po', eh. Ah, non so ancora se è opportuno salire le fotografie a 150. Io le sto, adesso le sto selezionando un po' di più del solito. E in caso vediamo. Magari arrivati a 150 c'è un trofeo. C'è un trofeo per qualsiasi cosa su sto gioco. Trofeo per la pazienza, il trofeo per aver trovato Chocobo, il trofeo per aver cavalecato il Chocobo. Uh, sentiamo, adesso. E un po' di sano turismo. Ehm, sì. Diciamo sempre di sinoglie, eh. A priori. Ok. E che riva sta ragazza, cioè carina nel senso che è vitale e simpatica. La passeggetta dei sogni, fate un giro al mercato, che mi si... Ehi, 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 ehi. Devo chiamare il Chocobo? Vado prima di te. Ehm, è ancora più bello qui a niente. A me, intanto vado a concludere la tua missione, eh. Ehi, ancora la stai? Stavi correndo prima. Qui, bella, qui. Ehm, arrivato. Mi faccio vedere interessato, dai. Cioè, ti è morto un attimo il padre, l'hai saputo da poco, ma mi faccio vedere interessato, va bene? Le donne sono così, ragazzi, eh. 250 esperienze ottenuti. Vabbè, ogni tanto per staccare i ragazzi ci vuole una cosetta così, eh. Quattro ore dopo. Andate a vedere la centrale, va bene. Dove si va? Ah, qua forse. Ehi, 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 ehi. Corro più io. Oh, ma... È velocissima. Se ci si mette è più veloce di me, ragazzi, eh. Non per dire. Tutto ciò mi... Ehi, aspetta. E infatti c'era qualcosina, eh. Pure prima c'era qualcosina, ma non l'ho presa. Molettina antica, eh. Dove sei andata? Ah, che mi segui come... Come la mia ombra. Ah, poi c'è di ombra? Ma ce l'hai, Noctis? Non ho notato le ombre ancora, vediamo. Vabbè, sì. Ce l'ho fatto casa. È caso. Ok ragazzi, fino ad ora abbiamo avuto esperienza, ma avremmo avuto sempre due PA a rispondere diversamente. Adesso, se le consiglio di fermarsi, mi dà esperienza. Se penso che sia dura, dovrebbe darmi punti azione, punti abilità. Punti ad azione, infatti. Punti abilità. Va bene, adesso andiamo a vedere che ho detto. La passeggera dei sogni. Guardate il panorama dalla terrazza. Ma anche ci sta a prova con lui? Cioè, fammi capire. Sta portando ovunque. Non hai caricato minimamente gli altri? Ho... Ah, dove si va da questa parte, Renzo? Intanto la sto distanziando. Ehi. Eccoti. Ok. Andiamo avanti. Poi, di nuovo potremmo avere l'occasione di prendere altre esperienze oppure abilità, sempre. A me, ragazzi, interessa poco, eh. E... C'è l'importante... Che mando avanti l'azione bene. Senso che faccio un discorso come voglio che lo faccia Noctis, tutto qui. Eccoci qua. Allora, non direi da 200... Mi pare 50 punti esperienza, non esageremo IPA, invece. Punti azione, eh, punti abilità. L'appassionata dei sogni, tornata in hotel. Tutto ciò per tornare in hotel? Chi torna prima? Ma che Noctis a volte va lento, quindi... Ok. Per caso che non posso aumentare ulteriormente il vigore. Forse sì, ancora non l'ho visto. Forse qualche puntabilità me lo fa aumentare. È una cosa... Qui ci tengo e che sarà fatta. Ma venga adesso, tra... La macchina... Lo penso anch'io, non esageriamo, oppure cambiamo argomento. Lo penso anch'io, 500 esperienza. Non esageriamo, 2 IPA. E... Cambiamo argomento, Elisir. Lo penso anch'io. Perché dà 500 esperienza, quindi è tanta. 500 punti esperienza. Va bene, missione compiuta, ce l'abbiamo fatta. La passeggerta dei sogni. La caverna dietro a cascata raggiungete l'antro... di Greyshire. Ragazzi, noi però ci salutiamo perché contiamo il tutto la prossima volta. Spero che il video vi sia piaciuto. Già possiamo fare una 15 anni di missioni secondarie. Forse le facciamo nel prossimo capitolo. Vediamo. Un saluto da Titan89 e alla prossima.